Un aiuto in più per contribuire a tenere la città di Salerno più pulita sperando che si possa ridurre l'atto di buttare a terra carte e cicche di sigaretta e questo l'obiettivo cui tende l'azione di potenziamento di nuovi cestini per la raccolta dei rifiuti di strada che da questa mattina ha visto comparire nuovi bidoni in diverse parti del centro della città di Salerno. Sono stati dipendenti di Salerno pulita questa mattina ad occuparsi di buon'ora dell'installazione dei nuovi contenitori stradali di colore grigio antracite scuro con posa cenere in via Roma su lungomare Trieste in pieno centro mentre nei prossimi giorni saranno installate anche in altre zone come la cittadella giudiziara, la zona Carmine San Francesco, via Manzo, via Santi Martiri, via Giacinto Vicinanza, via Dalgiso Amendola, via Domenico Scaramella, via Sichelmano e via Giovanni Santoro. Altri invece sono stati consegnati al comune di Salerno da tenere al momento per riserva. All'interno dei cestini sono stati collocati i bidoni di plastica aggiunti anche ai bidoni già esistenti che ormai ne erano privi perché nel corso degli anni si sono deteriorati. Soddisfatto della nuova implementazione dei cestini di strada Dario Renda del Comitato Territoriale Salernomia che da tempo riserva un'attenzione particolare al decoro della città di Salerno segnalando purtroppo spesso soprattutto nel cuore antico della città situazioni di abbandono indiscriminato dei rifiuti. Credo che sia un elemento importante aver aggiunto dei cestini e sostituito alcuni cestini che erano completamente ormai rotti in disuso sia per una questione di immagine sia per una questione di utilizzo pratico. L'importante è che i cittadini si rendano conto del fatto che a terra non va buttato nulla e che vadano utilizzati questi cestini. Ho notato che molti di questi cestini sono stati aggiunti in zone dove erano sprovvisti e sono stati implementati in altre zone di traffico pedonale maggiore. Questa mattina le prime installazioni qui su Via Roma sicuramente si attende che vengano spalmati un po' in tutta la città magari anche nel centro storico dove talvolta ritroviamo e lei più volte è stato testimone di segnalazioni rifiuti abbandonati. Sì il centro storico è quasi completamente sprovvisto dei cestini anche se lì il problema è diverso perché i cestini così piccoli non possono andare a raccogliere tutto quello che viene abbandonato in maniera quotidiana all'interno del centro. Lì sta cittadini che fanno un abbandono selvaggio dei rifiuti e al di là dell'amministrazione lì c'è bisogno più che altro di controllo, di maggior controllo.